Tutorial Bar Peace, esercizio di cardio ed espulsività che coinvolge sia la parte superiore che quella inferiore del corpo. Partire con i piedi alla stessa ampiezza delle spalle, concentrare il peso sull'avampiede ed iniziare il movimento appoggiando le mani a terra vicino ai piedi, per poi scalciare velocemente all'indietro con entrambe le gambe unite. Effettuare un push-up con profondità massima per poi fare un balzo con le ginocchia verso il petto, portando di nuovo i piedi vicino alle mani ed infine saltare verso l'alto con braccia lungo ai fianchi. Questa sequenza è considerata una ripetizione. In caso di difficoltà rallentare la velocità d'esecuzione o fare una micropausa appoggiando ad ogni ripetizione il petto a terra.